ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono sempre qui in montagna e quindi la qualità è quella che è comunque juventus under 23 batte cuneo 1 a 0 nella prima gara ufficiale la seconda in assoluto dopo l'amichevole con la prima squadra per la squadra under 23 finisce 1 a 0 con la rete di zanimacchia tra l'altro un grandissimo gol nel primo tempo e la ju è poi riuscita a resistere tutta la ripresa e e battere appunto il cuneo nello stadio di ca e che sarà di casa cioè mottagata di alessandria e devo dire una buona juve ha fatto girare bene la palla e addirittura mi sembrava una juve non da lega pro nel senso troppo troppo le troppi leziosismi lega pro si legna no e infatti ha trovato qualche difficoltà proprio per questo detto questo mi è piaciuta questa voglia di imporre il gioco della juve anche se c'erano molti ragazzi benissimo i nuovi e ben bene ma vdd anche se si vede che ancora poverino non è appena arrivato gli deve ambientarsi benissimo zanimacchia che ha fatto un gol pazzesco e il gol poi che ha deciso la partita e partita è stata trasmessa su da eleven sports tra l'altro un bellissimo servizio e soprattutto gratuito quindi sicuramente positivo a differenza di qualche altro servizio a pagamento che non sta funzionando assolutamente bene e dunque il gran gol di zanimacchia occasione ancora per la juve nel secondo tempo ha sfiorato raddoppio che sarebbe stato importante per la qualificazione visto che con un 2 a 0 la juve poteva andare ad albissola anche a giocare per un pari ma forse meglio così e cercare e doversi giocare il tutto per tutto la credo che giochino a chiavari comunque per essere la prima partita per essere metà agosto sinceramente ho visto una buona juve e considerando che in genere le le squadre primavera di solito con le squadre con le prime squadre di solito perdono questa è una primavera con qualche giocatore di esperienza e si vede comunque che chi è quello di esperienza ad esempio alcibiade perché alcibiade ha fatto un partitone pazzesco e ha rischiato poi la beffa finale di andare addirittura a pareggiare la partita la juve però alla fine il risultato non è cambiato e la juventus che ha dominato la partita fino all'ottantesimo circa cioè dominata nel senso a livello di geografia di campo nel senso è sempre stata in attacco gli ultimi dieci minuti effettivamente ha subito un po il ritorno del cuneo che ha cercato il tutto per tutto e ha anche sfiorato il pareggio ma non è servita e la juventus vince 1 a 0 col cuneo adesso domenica 26 alle 20 e 30 si replica con l'albissola in trasferta sperando di ottenere il risultato positivo cioè la vittoria che vorrebbe dire passaggio al prossimo turno insomma staremo a vedere intanto juventus under 23 batte cuneo primo uscito ufficiale primo gol ufficiale zanimacchia io vi saluto e vi do appuntamento per i prossimi video ciao